No Man's Land, a Loreto Aprutino incontrata a Rotacesta, il cantiere aperto sul filo delle migrazioni, all'insegna dell'arte, della musica e della poesia. L'ultima tappa della fondazione No Man's Land, che dal 2017, anno della sua costituzione, vede nei due ettari di bosco e giardino, il luogo fertile di cambiamenti etici ed economici, riparte quest'anno dalle migrazioni, essenza dell'abitare di Jona Friedman. Il museo a cielo aperto, ideato dall'architetto Franco Ungherese, ha mantenuto fede ai suoi propositi di terra di tutti, accogliendo le tante persone che hanno potuto muoversi liberamente tra installazioni, performance e natura, in una concatenazione di ospiti che hanno saputo mantenere alta la soglia di attenzione sui drammi del mondo contemporaneo, conservando lo spirito in festa dell'evento. L'artista è invitata a partecipare con The Long Theme Thread, Filo Lungo e Sottile, l'installazione Site Specific Permanente e Gülsün Kara Mustafa, artista visiva e filmmaker turca, che ha approfondito il suo lavoro svolto con la direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Cecilia Casurati, e Dora Stiefelmayer, presidente di Radio Arte Mobile. Tre macchine da cucire Singer sono state collocate nel Bosco di Noci come abbandonate, rievocando la storia di chi è costretto a spostarsi con solo l'essenziale. Il lavoro svolto dall'artista collega la storia migratoria dei popoli con il lavoro femminile come occasione di emancipazione, ma anche di ostacoli da dover superare. The Long Theme Thread, Filo Lungo e Sottile, ricucce l'ambivalenza di luoghi abbandonati e altri tutti da scoprire con le abilità e i limiti imposti dalla società. Il filo diventa così il simbolo di confini, legame con la terra, occasione di riscatto per donne in fuga che in passato abbandonavano le pesanti macchine da cucire per mettersi in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. L'arte non è strumento politico, ma è sa stessa politica. Così ha concluso cara Mustafa alla domanda sul rapporto tra arte e politica, lasciando un monito ai tanti giovani presenti di non smettere mai di porsi domande. Il cantiere di No Man's Land sembra non chiudessi mai, i cancelli rimarranno aperti giorno e notte ai visitatori senza alcun costo di biglietto, più che per ammirare le installazioni presenti, per abitare un luogo che appartiene a tutti e di cui siamo responsabili.